Continuano ad arrivare notizie sul nuovo roster della Pallavolo Cereniola per la stagione 2021-2022. Dopo la riconferma di Carla Scherza e Viola Valeci, il clamoroso ritorno di Margaret Altomonte, unito a quello di Michele Valentino alla guida tecnica dopo l'esperienza così così con Davide Castellaneta, e congiunge la riconferma anche per quest'anno di Ilenia Novia. La talentuosa giocatrice Fuxia si è ovviamente riconfermata alla fiducia della società e non vede l'ora di tornare sul campo. Sono felice di essere ancora una Pantera, ha detto, e sono pronta per un'altra entusiasmante stagione a Cereniola. Nella giornata di martedì la Pallavolo Cereniola ha ufficializzato anche il ritorno clamoroso dopo quello di Margaret Altomonte anche per Chiara Giancani dopo le ultime due stagioni con l'Adriati Catrani e con Oria in ambidue. La proposta delle Pantera mi ha colto di sorpresa e ho accettato subito, spinta dall'entusiasmo della chiamata, e soprattutto dai tantissimi ricordi legati alla prima esperienza con questa maglia, tra cui anche la storica promozione in ambidue. Mi auguro di rivivere ancora quei momenti con le mie nuove compagnie nella prossima stagione. Mimmo Siena, Wornios 24 Sport. Mimmo Siena, Wornios 24 Sport. Mimmo Siena, Wornios 24 Sport.